Conclusi a Castelvetrano i primi corsi per percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta di 32 soggetti titolari di un voucher formativo selezionati dal settore dei servizi per il cittadino del comune di Castelvetrano che hanno scelto di frequentare il percorso formativo presso la Scuola dei Mestieri TED Formazione Professionale di Castelvetrano. Due corsi di formazione per piastrellista e impermeabilizzatore della durata ciascuno di 80 ore organizzati dal comune di Castelvetrano quale ente capofila del distretto sociosanitario numero 54. L'iniziativa mira a sostenere le opportunità di possibile ricollocamento lavorativo dei percettori del reddito dichiara Enzo Alfano, sindaco di Castelvetrano, e rappresenta una prima concreta azione posta in essere nel territorio della Valle del Belice. Risultato reso possibile dal prezioso lavoro messo in piedi dal responsabile del settore servizi per il cittadino, dottore Marcello Caradonna, e dal gruppo di lavoro che ha consentito di raggiungere un primo obiettivo sociale e formativo sul territorio. Una iniziativa importante per il territorio, afferma il coordinatore della Scuola dei Mestieri TED Formazione Giuseppe Messina, che viene attuata grazie ad una convenzione siglata con il comune di Castelvetrano, e finalizzata non solo a contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di abbandono educativo con percorsi diretti ai minori in obbligo scolastico, ma anche a realizzare occasioni di qualificazione o riqualificazione per includere soggetti al momento fuori dal mercato del lavoro e accompagnarli all'occupazione. In attesa che dalla regione siciliana arrivi il via libera ai percorsi formativi del programma Goal, indirizzato per percettori di naspi, reddito di cittadinanza e disoccupati a Castelvetrano, il comune è riuscito a utilizzare risorse del PON Inclusione 2014-2020, rendendoli disponibili in favore di 32 percettori del reddito di cittadinanza, attivando una misura prevista dal Piano Nazionale PON Inclusione, scongiurando così la perdita dello stanziamento.